Pasquale si incontrava da tutte le parti, perché Pasquale quei due giorni che era il normale girava per i corridoi, entrava nelle camere e diceva che cosa fai? A me capitò Pasquale in camera alle due di notte, per fortuna ero ancora alzato a studiare, lui girava, vedeva la luce accesa entrata dentro e mi fa ho fame, e dico sì professore ma io non ho niente, no dice guarda ho fame, hai del tè, sì tè ce l'avevamo tutti, prepara il tè e vai a cercare un po' di pane, io misi sul fornellino l'acqua e mi inizi a girare per la scuola andando nelle camere delle varie persone finché trovai quello che aveva un pezzo di pane e non lo portai Pasquale è uguale, se mangio il pane e il tè, Pasquale era così insomma.